Un barbiere di Siviglia in formato smart. Abbiamo pensato io insieme ad un gruppo di amici musicisti, valenti musicisti tra i quali anche il maestro Piero Di Egidio, di riportare la lirica a Teramo, ma chiaramente in formato pocket perché in questo momento un teatro non c'è, c'è il covid e quindi gli spettacoli era meglio farli all'aperto, soprattutto per il numero di persone che poteva partecipare. Prenotazione Green Pass perché dal 6 di agosto purtroppo abbiamo questa nuova variante che ci obbliga al Green Pass. Quindi prenotazione obbligatoria, troverete tutte le informazioni sul manifesto, però comunque cerco di ricordarlo, o mandando un messaggio whatsapp al 328 28 72 773 oppure accademiamusicaleabruzzesechiocciolagmail.com. La prenotazione è obbligatoria, quindi mi raccomando. Abbiamo anche una serie di vincoli da parte della Prefettura perché il Chiostro Manonelle Grazie rientra nel famoso concordato e quindi questo è un bene dello Stato e quindi abbiamo veramente dei rigidi controlli. Ringraziamo il Comune di Teramo e la Fondazione Tercas perché hanno voluto contribuire effettivamente alla realizzazione di questo spettacolo. E poi avremo un altro spettacolo invece che ci sarà a settembre di Canto e Pianoforte, ma magari ne parleremo più in là.